Il calcio con il Prato che ha ottenuto la salvezza nel campionato di Lega Pro al termine della gara di ritorno del play-out disputata sabato scorso e vinta con la Lupa Roma per 3-1. Un traguardo raggiunto in extremis da parte della formazione Bianca Azzurra che apre nuovi scenari per quanto riguarda il futuro del club. Ce ne parla Stefano Chini. La stagione è finita finalmente, finalmente perché non ci saranno altre partite quest'anno, sofferenze, prestazioni abuliche o anche colpi di scena incredibili come sabato. Finalmente perché la squadra si è salvata, da oggi si volta pagina, da oggi si deve voltare pagina. La permanenza in Lega Pro era una delle condizioni poste dal contratto firmato dal Trasto Orgoglio Pratese da Paolo Toccafondi 15 aprile scorso. L'altra è legata a quanto il tandem Messanesi e Cecconi riusciranno a trovare a livello di budget. Gli 800 mila euro sui quali pare che Paolo Toccafondi non voglia transigere, così almeno ci sembra di aver capito sabato nel dopopartita. Nicola Radici attende alla finestra, pronto a rientrare in scena a Prato. Sarà lui, o almeno dovrebbe essere, se tutto andrà bene, l'ex presidente della Pro Sesto, a prendere in mano le redini del progetto Noi Siamo in Prato. Sappiamo che Radici ha le idee chiare, sta già lavorando, ma servono i soldi. Sconti non ne saranno fatti, a meno che la cifra non sia talmente vicina al budget da ritenere forzati eventuali colpi di scena. Serve voltare pagina, serve cambiare, così non è più possibile andare avanti. Prato merita di più, per meritarsi di più, però ora serve Prato. La città, la parte imprenditoriale, i tifosi, altrimenti, mai come ora, tutto diventerebbe fuffa, retorica. Faremmo una figura ridicola agli occhi di colui che abbiamo sempre contestato, senza se e senza ma, 39%, quello che sia. Non ci sono più scuse, astenersi, perplessi o disfattisti. Orgoglio pretese, il comitato di presidenza, composto dagli sponsor, chiederanno due settimane in più per concretizzare il progetto. Paolo Toccafondi glielo deve, i play-out hanno rallentato tutto. Da oggi non ci sono più intoppi o presunti tali. Si viaggia a vele spiegate, con il posto in Lega Pro confermato, verso il cambiamento oppure il consolidamento di ciò che la gente non vorrebbe. Fate Vobis, scriveva Fogazzaro sul piccolo mondo antico. Detto questo, sarebbe ingeleroso non dire due parole su chi ha salvato la squadra. Roberto Malotti, in primis, arrivato tra lo scetticismo generale, ha saputo conquistare il cuore della gente, anche se il suo non è stato un percorso netto, senza ostacoli. La mancata vittoria col Sant'Arcangelo, rimediata però con un pari incredibile, e l'andata ad aprilio del play-out, potevano scavare la tomba verso la retrocessione. Lui ha saputo tenere viva la squadra, però proponendo anche all'interno di una singola partita moltissimi cambi, tattici e di uomini. Pensate a regolanti Emanuele Malotti, del secondo tempo di sabato, inserite al posto di Gaiola e Capello, che hanno sbagliato partita. Per colpe anche non loro, causate dall'impiego tattico, Gaiola a destra sul fronte difensivo e Capello troppo dietro le punte. Capello, a proposito, uomo determinante fino a metà stagione, fino all'infortunio di Ferrara. Spiace averlo criticato nel finale di campionato, nell'appendice del play-out non è stato però determinante come si pensava. Ma sia chiaro, il suo valore in prospettiva resta e come. Due parole su Ogunseie, su Robertone, la gente riducchiava, ma ho sempre detto, occhio, questo ragazzo ha i numeri. All'inizio non aveva giocato e di sicuro, in prospettiva, con un impiego più continuo, avrebbe fatto bene. E la salvezza per me ha davvero il volto di questo ragazzone Debano. Per il resto, come detto sabato, non voglio più parlare di questo campionato. Sabato al novantesimo ho festeggiato un minuto dopo, ero già a pensare al futuro. Tocca a noi adesso, stop, senza sé e senza male. Ma restiamo ancora al dopo partita di sabato, con il tecnico Malotti e il team manager del Prato in Dragoli. Si era già fatto vedere in altre occasioni che, al di là dell'aspetto e della giovaneità, questa è una squadra che ha a cuore. Sono ragazzi che ci tengano, è vero che possano sbagliare, a volte hanno sbagliato anche oggi nell'occasione del primo gol. Però sono ragazzi che giovano più un qualcosa, giovano più un ideale, giovano più una maglia, giovano più un rapporto che si è creato in questi due mesi. E alla fine poi è quello che fa la differenza. E però abbiamo anche Massimo in Dragoli, vieni. Allora, intanto ti chiedo una cosa. Ho visto che è uscita una notizia da Lucca che ti danno prossimo responsabile del settore giovanile. Ma sono chiacchiere di giornalisti. Meno male ci si libera, ha detto il mister. Che ti ha fatto fare l'allenatore a un certo punto, eh Roberto, confermi. Ma ho fatto tutto lui. Ho fatto tutto lui. Però magari ti dai male a me. La sostituzione di Malotti e Unione è stata fondamentale. Chi l'ha fatta? Ho sperato che dentro ci avesse un po' della famiglia Malotti. In effetti... Ha fatto la differenza in quei due frangenti. La tiravo fuori. Onestamente stavo bravo. Ecco, Massimo. Sì, ha detto bene il mister. Però io volevo sottolineare la forza del gruppo che c'è stata. Perché sono stati veramente dei ragazzi eccezionali che sono allenati tutto l'anno bene. E hanno dimostrato al campo che volevano una salvezza. E questo è un merito che si devono prendere ragazzi. Chi vuol capire capisca. Io so che la tua presenza, insieme anche a quella del mister, è stata fondamentale dentro lo spogliatoio in queste ultime due settimane. Perché sono sicuro che avrete dovuto isolare questo spogliatoio da tante piccole cose. Cos'è te, beh, l'hai capito? Senza stare a specificare. Ti ripeto, è vero che c'è stata questa cosa qui. Però sono stati bravissimi i ragazzi a concentrarsi su quello che era l'obiettivo di tutta la stagione. Sì che il merito va solamente a loro. E ora uno sguardo al futuro del Prato con Mirko Cecconi, amministratore delegato del Trasto Orgoglio Pratese. Da domani uno dei membri di Orgoglio Pratese ha detto vogliamo le mail piena di adesioni sia dei tifosi e sia delle aziende. Perché oggi non c'è più scuse. Oggi abbiamo la Lega Pro, abbiamo tutto, abbiamo tutto in mano noi. Ora se non facciamo cambiamento è colpa nostra. Non possiamo più dire che è colpa di qualcun altro. Quindi da domani mattina, non dopo guardiamo, vediamo, vediamo la squadra, non si vede nulla. Perché qui se noi arriviamo al 15 giugno e non abbiamo il budget che noi abbiamo detto che è importante per fare una Lega Pro diversa da questa, se no patiamo tutti gli anni. Quindi non è un problema di capacità. Sì possiamo indovinare un giocatore invece che un altro. Ma se i soldi sono questi, questa società o altre società più di questo non possono fare. La gente se ne deve rendere conto. Allora, oggi c'è da prendere decisioni. Oggi c'è da prendere decisioni veramente. Scusate la voce ma... Che anche la mia è andata. Completamente. Ora c'è da aderire. Ora c'è da aderire. Che sia un tifoso normale, che sia un'azienda. Abbiamo mille pacchetti. Chiederemo, questo è importante dirlo, chiederemo alla società qualche giorno in più. Perché ovviamente questi play-out ci hanno un po' diciamo scombustrato i preani. Perché in molti, e questi molti li rivogliamo da domani mattina, ci dicevano che stavano aspettando questa partita e questo risultato. Ora il risultato c'è stato. Vediamo se noi arriviamo alla scadenza e poi non riusciamo a fare niente perché la città non si è smossa. Attenzione, perché poi non ci sono più scuse. Perché poi questa è una strada di non ritorno. Con questo è tutto. Grazie per la cortesia e attenzione. Buonasera. Buonasera.